Allora, lo so che non vi sembra vero, Ale con me, allora non vi daremo ricette, non vi daremo consigli, non vi daremo... Cosa vi daremo? Gli auguri. Siamo qui per farvi gli auguri in Borghese, guardate che carina, anche noi siamo pronti a trascorrere l'ultimo dell'anno, mi sono ripresa grazie a tutti per i saluti, per gli auguri, ho lasciato la mia metà da sola, gli ultimi giorni, l'influenza ha colpito anche me, ma eccomi qua, bella carica da affrontare, un 2020, insieme a chi? A voi, a tutti voi che ci seguite, grazie, grazie di cuore, dal 2002 siete la nostra cornice, e la nostra cornice chi è che vi può fare gli auguri anche? Vieni bimbo. Auguri! La nostra mascotte! Tante belle cose, auguri, vi aspettiamo come sempre al mercato. Ciao, auguri, buon anno! Ciao! We are family I got all my sisters with me We are family Get up everybody and sing We are family I got all my sisters with me We are family Get up everybody and sing Everyone can see we're together As we walk on by We are family